Bene ciao ragazzi, in realtà questo è un video un po' strano per tutta una serie di motivi solitamente inizio un video dall'inizio alla fine ma queste settimane sono successe diverse cose allora prima di tutto sono venuti i miei a trovarmi e come ogni volta che arrivano i miei a trovarmi di solito ne approfittiamo per visitare diversi posti nella California quindi io ho girato con la mia Canon in tutti i posti dove siamo andati il problema è che ho iniziato a girare dei video senza seguire ad avere una specie di filo logico non ho fatto dei video in cui iniziavo la mattina e finivo la sera e spiegavo bene dove mi trovavo non ho girato abbastanza materiale per creare un video lungo, creare un video con un inizio e una fine quindi cosa ho fatto? Ho girato degli spezzoni questi giorni in tutte le località dove siamo andati e ho deciso di creare una specie di video, una specie di Californication, così lo chiamerei dove ci sono tutti i posti dove siamo andati in pratica ci siamo trovati dalle colline di Beverly Hills, alle spiagge di Santa Monica e di Malibu al deserto di Palm Springs e Palm Desert e Joshua Tree Park alla Muna Beach nel giro di un paio di settimane abbiamo visto veramente un sacco di posti e un sacco anche di musei quindi il miglior modo per raccontare questo video è attraverso questa clip anche perché le immagini e i video che vedrete valgono più di mille parole ok ragazzi siamo alla Greystone Mansion qui a Beverly Hills, è una villa di un magnate del petrolio che abitava qui guardate che grossa che è l'ha praticamente donata la città di Beverly Hills niente adesso fanno un sacco di eventi privati ok ragazzi oggi siamo a Santa Monica ok 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 ecco 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 Grazie a tutti. Oggi dove siamo? Siamo a Laguna Beach. Il tempo si suppone che da queste parti sia sempre bello e casualmente ogni volta che vengono i miei qui in California il tempo fa un po' schifo. Musica Musica Ora di essere in un altro pianeta qua. Musica 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 Bene ragazzi eccoci arrivati a Pioneer Town, è una specie di città fantasma che ovviamente è stata ricreata e costruita per essere un set di Hollywood. Infatti qui hanno girato un sacco di film negli anni 50 in poi, soprattutto western, ed è diventata una delle location più famose dove appunto sono stati girati questi film. Musica Musica Bene ragazzi siamo a Palm Desert che è praticamente vicino a Palm Springs. Questa che vedete è una specie di rodeo drive di Palm Desert. Ci sono un sacco di ristoranti, negozi, stile rodeo drive di Los Angeles. Musica 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 Bene ragazzi questo è il tarpiz letteralmente pozze di catrame in inglese. Infatti quelle che vedete qua sono proprio delle pozze di catrame, quello che vedete sono bolle di metano e di gas che vengono fuori dal territorio sottostante. Musica 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 Ciao ragazzi oggi mi trovo sulla Pacific Palisade. Questo è il pezzo di strada che collega Los Angeles Santa Monica con Malibu. Musica Ok, penso sia tutto. Ci vediamo al prossimo video. Musica 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 Musica